Staff dimezzato per pagare gli operai. La decisione è del neosindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, una mossa che serve ad avere la copertura finanziaria per prorogare sino ad ottobre i contratti in scadenza di 10 operai. Una variazione di bilancio in sostanza che riduce il budget per i collaboratori di sindaco e giunta, usando il risparmio di oltre 37.000 euro per rinnovare il contratto di alcuni operai comunali, indispensabili per le attività dell'amministrazione. Una decisione che ovviamente andrà ratificata in consiglio. Nello staff che aveva iniziato a lavorare intanto c'è già qualche novità. A posto di Beatrice Di Marco, che ha optato per un altro impiego, ci sarà Maria Laura Carducci, ex collaboratrice di Abruzzo 24 Ore TV. Tra i collaboratori figura anche Antonio Latorre, ex presidente del Cus Regbi, che a titolo assolutamente gratuito sta collaborando con il vice sindaco Liris. Nell'ufficio del sindaco anche Daniele Placidi, responsabile dell'area comunicazione, programmazione e monitoraggio dell'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Aquila. Nello staff ovviamente anche Alessia Di Giovacchino, che assieme ad altri ha portato avanti la campagna elettorale di Pierluigi Biondi. Tutti questi si aggiungono ai già noti Andrea Di Biase, capo di gabinetto, Daniela Ianni, collaboratrice del responsabile della segreteria, Giorgio Alessandri, portavoce del primo cittadino, Gianluca D'Ercole, addetto alla segreteria degli assessori. Le reazioni politiche alla decisione di Biondi di risparmiare sullo staff non si sono fatte attendere, su tutte quella del vice presidente del Consiglio Comunale, Ersilia Lancia, un sindaco di destra, dice, che taglia le spese per lo staff e assume gli operai.